Federico Rossi si è confessato in una lunga intervista in cui ha fatto rivelazioni sulla carriera e sulla vita privata che fino a ora aveva tenuto nascoste. Ex del duo Benji & Fede quest'estate sta letteralmente spopolando con una serie di tormentoni che stanno scalando le classifiche. Primo tra tutti. Movimento lento, in featuring con Anna-Lisa. Federico Rossi per festeggiare i successi ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera in cui ha anche parlato della sua carriera da solista, cominciata un anno e mezzo fa quando lui e Benjamin Mascolo hanno deciso di separare le loro strade artistiche. Non solo carriera però, ma anche amore. Il cantante ha da poche settimane dovuto dire addio a Paola Di Benedetto, l'influencer ed ex naufraga con cui ha avuto una lunga relazione. Sulla fine della loro storia non ha espresso alcun rancore, anzi ha rivelato di mantenere con lei ancora rapporti abbastanza tranquilli. Siamo stati complici a prescindere dall'essere fidanzati, ha detto a proposito della sua ex. Anche con Benji i rapporti sono rimasti ottimi. Rossi ha rivelato di come il progetto del duo non gli permettesse più di crescere artisticamente e gli togliesse molto spazio. Tuttavia, dopo aver deciso di separare le loro carriere, i due sono rimasti molto amici e anzi, questo ha permesso loro di andare oltre il rapporto lavorativo e scoprirsi sotto un altro aspetto. L'altra notte, ha confessato Fede, il suo ex collega gli ha mandato un messaggio in cui rivelava di sentire la sua mancanza. Tuttavia, entrambi stanno costruendo il loro futuro senza rimpianti alle spalle. E ci stanno riuscendo alla grande.